Doveva essere la rivincita di cinque anni fa, ma sin dalle prime battute i ruoli sembrano simili a quelli che nel 2017 sancirono la vittoria di Emmanuel Macron contro Marine Le Pen. Due ore e mezzo di faccia a faccia in diretta TV a quattro giorni dal ballottaggio per le presidenziali. Il presidente uscente ha convinto di più della sfidante. Macron è partito subito all'attacco sull'ecologia e sull'Europa. Ai primi scontri sul potere d'acquisto dei francesi, tema al centro della campagna elettorale della Le Pen, la candidata della destra ha denunciato le prime incertezze. Macron ha attaccato la rivale perché nel suo programma non appare nemmeno una volta la parola disoccupazione. Durante tutto il dibattito la Le Pen non ha mai accennato a islamo-immigrazione, temi per decenni centrali nella sua campagna. Ma le scintille sono arrivate sulla guerra in Ucraina e il ruolo della Francia, soprattutto quando Macron ha accusato Marine Le Pen di essere dipendente dal potere russo per essersi presentata candidata grazie al prestito di una banca russa per 9,7 milioni di euro. Come cinque anni fa i sondaggi in vista del ballottaggio di domenica danno favorito Macron con il 56%, contro Marine Le Pen al 45%.